Eccoci, buon sabato, benvenuti, bentornati a questo quinto appuntamento della rubrica Privacy e protezione dei dati personali. Sono l'avvocato Giovanna Panucci e se ci seguite da un po' avrete capito che io settimanalmente vi accompagno e sono con voi in queste, diciamo, turbolente acque della mondo privacy e protezione dei dati. La scorsa settimana abbiamo commentato una notizia decisamente molto importante. Il 13 marzo l'Unione Europea finalmente ha approvato il testo definitivo del regolamento sull'intelligenza artificiale. È stato un regolamento ed è ancora un regolamento criticato, dibattuto. Io devo dire un testo sicuramente molto positivo, ben scritto, però le critiche non sono mancate. Qualcosina abbiamo visto la volta scorsa quando abbiamo parlato di definizione dei sistemi di intelligenza artificiale e ho dedicato anche un video sul mio canale YouTube dove commento il testo utilizzando un'intelligenza artificiale che è proprio chat GBT. Quindi vi consiglio di seguirlo se non l'avete visto. È carino perché vediamo anche come utilizzare questo strumento in senso strepitosamente positivo come attività di supporto. Anche oggi la nostra line app di notizie non è meno importante. Vedremo che sono molte notizie collegate ancora al tema caldo dell'intelligenza artificiale, come è ovvio che sia. Ma io direi allora senza ulteriori indugi passiamo a visualizzare quella che è la mia dashboard su Feedly. Allora per chi, lo ripeto, non avesse seguito attentamente gli appuntamenti precedenti, io utilizzo Feedly che è un'intelligenza artificiale che mi aiuta a fare un scouting di notizie. Io ho detto all'intelligenza artificiale quali sono le mie fonti principali di notizie e settimanalmente, giornalmente, anzi in realtà, online, in diretta. Io sono in grado di sapere quali sono le notizie dell'ultimo minuto per essere veramente sempre sul pezzo e sempre aggiornati. Il mio Feedly è pubblicato, quindi è online nella community OmniaVis, sezione dedicata alla mia, diciamo alla rubrica. Trovate il link, trovate tutte le info, quindi se non dovessimo un giorno riuscire a commentare tutte le notizie, sappiate che è pubblico, quindi siete in autonomia in grado assolutamente di farlo. Bene, allora da dove partiamo? Io ho selezionato queste sei notizie che mi sono parse quelle un pochino più simpatiche, rilevanti, degne di nota. Partiamo da qui, partiamo da una news dal respiro europeistico, sto parlando del G7, saprete che due settimane fa e l'ultimo weekend che è stato poi il secondo appuntamento, il G7 si è riunito prima a Verona, se non erro, e in seconda battuta a Trento per discutere di temi importanti. Fra i tanti temi, indovinate un po' che cosa c'era? L'intelligenza artificiale. Per chi non sapesse che cos'è il G7, G7 sta proprio per gruppo dei sette, dove il numero indica ovviamente le sette, economie avanzate più grandi del mondo, sono Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e se non vado errato c'è anche l'Unione Europea come membro però non numerato. Qual è lo scopo del G7? Che cosa fa? Si riunisce una volta all'anno per discutere, quindi darsi un orientamento su temi, questioni di rilevanza globale, come politica economica, sicurezza, ambiente, innovazioni e quant'altro. Il G7 si riunisce una volta all'anno in un vertice, così viene chiamata la riunione che lo caratterizza. Quest'anno era il turno dell'Italia perché solitamente la presidenza del G7 ruota annualmente fra i membri e il paese che in quell'anno detiene la presidenza è anche il paese che ospita il vertice. Quindi quest'anno è toccato all'Italia, rappresentata da Butti che è il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri che ha ricevuto dal governo Meloni la delega all'innovazione tecnologica e si è parlato proprio di intelligenza artificiale. Quindi i set hanno alla fine del vertice redatto un documento che è un po' una dichiarazione di intenti mettendo nero su bianco le intenzioni dei prossimi mesi. Vedete qui, io fra l'altro questo sito AI News ve lo consiglio perché sono delle notizie interessanti sul mondo dell'intelligenza artificiale, ben scritte, attualissime, quindi lo consulto di frequente e vi riporto quindi anche questa fonte. Ecco, vediamo un po' G7. Dopo la dichiarazione di Trento, appunto l'ultimo incontro era proprio lì, Butti annuncia norme italiane in 15 giorni. Mi sembra un po' forse abbastanza temerario Butti, nel senso che dire che in 15 giorni l'Italia adotterà delle leggi sull'intelligenza artificiale forse è veramente un po' prematuro, però chissà. È già passata forse una settimana da quando si sono riuniti, speriamo di vedere qualche cosina. Comunque, in generale, che cosa possiamo dire di questa notizia? Allora, questo G7 di quest'anno riprende il tema del G7 dello scorso anno che si era svolto in Giappone a Hiroshima, o Hiroshima come dicono i giapponesi, dove per la prima volta si affronta questo tema dell'intelligenza artificiale in un documento che prende il nome proprio di processo di Hiroshima. Quindi già nella dichiarazione di intenti dell'anno scorso si parlò di intelligenza artificiale. Si riprende quindi il tema e riportano il tutto. Vediamo se avevo fatto il download della dichiarazione. Sì, eccola qui. Dichiarazione di Trento sull'intelligenza artificiale. Questo è il documento che hanno sottoscritto e condiviso durante l'ultimo vertice. Quindi, vedete, crediamo che l'accesso alla tecnologia debba essere democratizzato affinché il digitale rappresenti un'opportunità di sviluppo veramente globale e inclusiva per i cittadini. Le amministrazioni pubbliche e le imprese, quindi PA e privati, indipendentemente dalle loro dimensioni. Quindi una, se vogliamo, volontà di rendere questa innovazione, l'intelligenza artificiale assolutamente totalizzante. Ci impegniamo a lavorare per l'adozione dell'intelligenza artificiale da parte di imprese, PMI, settore pubblico e a contribuire alle iniziative del G7. Quindi, vedete, è un po', vi dicevo, una dichiarazione di intenti. Quindi, non che si potesse fare diversamente, per ovvie ragioni. Però è importante perché, diciamo, da un punto di vista istituzionale, mettere nero su bianco queste intenzioni, sicuramente, anche nei rapporti pensate con gli stati extraeuropei, con il resto del mondo, è assolutamente importante. Perché poi, quando si va in contesti istituzionali, si dice, no, l'Europa ha fatto questo step, ha messo nero su bianco questo intento. E quindi è assolutamente molto importante. Una dichiarazione degna di nota. Vedremo se questa normativa italiana sull'intelligenza artificiale sarà pronta, effettivamente, a breve. Butti, dicevo, parla di 15 giorni, attendiamo con ansia. Passiamo a un'altra notizia. Ah, una cosa importante. Vi segnalo anche questo sito, per rimanere sempre un attimo in tema AI. Test approvato dal Parlamento Europeo. Questo sito è avocloud.net. L'ho trovato assolutamente per caso. Mi è piaciuto tanto, però, perché, vedete, fa un riassunto, diciamo, esaustivo, completo e anche ben parafrasato del regolamento sull'intelligenza artificiale. Quali sono gli obiettivi? Ci fa, no, tre punti semplici. Rapporto con la normativa esistente, quindi tutto il tema della convergenza normativa. Approccio basato sul rischio, applicazioni proibite, definizioni e quant'altro. Quindi, ecco, se volete a colpo d'occhio avere un riassuntino un po' del regolamento sull'intelligenza artificiale, qui trovate il riassunto, trovate le proposte del regolamento, trovate il testo approvato, quindi avete modo di farvi un'idea e una panoramica assolutamente dettagliata. Torniamo alle notizie. Passiamo a una notizia italiana. Quindi, torniamo in Italia. Questo è il sito del Garante per la protezione dei dati personali e un tema molto importante e anche molto sentito dagli italiani. Le famose telefonate di telemarketing e teleselling, quelle noiose telefonate che riceviamo dove non si sa come mai queste aziende, queste organizzazioni possiedono i nostri numeri e veniamo disturbati in maniera abbastanza importante ecco, da venditori ambulanti e quindi c'è nel sottobosco un po' di queste organizzazioni una comunicazione di numeri, di dati personali che sicuramente va un attimino limitata. Che cosa è successo sul tema telemarketing? Il 7 marzo del 2024 il Garante per la protezione dei dati personali diciamo pubblica un provvedimento che riguarda proprio l'approvazione del codice di condotta attenzione perché è una novità abbastanza interessante proprio per le attività di telemarketing e teleselling. È un codice che mira a disciplinare diciamo e garantire che queste pratiche siano svolte nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e dà un quadro di riferimento chiaro per le aziende che operano in questi settori. Prima di questo codice ed è questo il cambiamento importante esistevano già delle normative e delle linee guida su telemarketing e teleselling ma chiaramente erano abbastanza deboli tant'è vero che poi di fatto non venivano assolutamente applicate. Quindi questo provvedimento introduce un quadro specifico e aggiornato e rafforza proprio la tutela dei consumatori e chiarisce quali sono le responsabilità poi delle aziende che vanno a violare questo codice di condotta. Una nota importante perché approfittiamo sempre delle notizie per fare anche un po' di informazione su questi temi qual è la differenza fra telemarketing e teleselling? È una differenza sottile nel senso che il telemarketing non si focalizza diciamo sul chiudere una vendita sulla non mira proprio all'acquisto ecco da parte del consumatore ma mira più se vogliamo a instaurare un rapporto che possa poi in futuro portare a successive vendite per farvi un esempio telefonate di telemarketing sono quelle sui sondaggi oppure questionari di gradimento come ti sei trovato quando hai acquistato questo prodotto da 1 a 10 eccetera eccetera mi viene in mente per chi ha un Alexa a casa quando voi ordinate i prodotti non so se capita anche a voi però a casa mia mi capita spesso si illumina ogni tanto poi mi chiede Alexa il giorno X alle ore Y non hai ordinato questo prodotto come lo valuteresti da 1 a 10 quello è se vogliamo telemarketing perché il fornitore di quel prodotto ha un'idea di gradimento e quindi ecco sa un po' come è andata poi effettivamente la vendita anche in virtù di vendite future il teleselling è una cosa un pochino diversa il teleselling invece è più aggressivo perché mira proprio alla chiusura della vendita e alla generazione del profitto quindi è la classica telefonata o la classica chiamata che riceviamo che diciamo vuole venderti un qualcosa un prodotto un servizio e similare quindi la sfumatura è un po' diversa l'uno è più una diciamo captatio benevolenza e l'altro proprio la vendita di un prodotto di un servizio quindi anche questo è una differenza ecco importante proseguiamo proseguiamo e andiamo a vedere un po' il campo della cyber security nel campo della cyber security passiamo al report 2024 di Clusit vediamo se trova colpo d'occhio la notizia eccolo qua allora è stato presentato in arte prima proprio proprio dall'associazione italiana per la sicurezza informatica da questa organizzazione un report sulle principali minacce ma non solo minacce attacchi effettivamente perpetrati nel corso del 2023 ne avevamo parlato in una delle precedenti rubriche se non erro quindi la notizia che viene pubblicato un po' il report dedicato allo scorso anno questa associazione italiana è importante perché è uno strapitoso punto di riferimento nel panorama italiano per la cyber security è stata fondata all'inizio degli anni 2000 e l'obiettivo che si dà come associazione è proprio quello di promuovere una cultura della sicurezza informatica in Italia ce n'è tanto bisogno e come lo fa? lo fa diffondendo le ricerche e le conoscenze tecniche che possiede lo fa tramite aggiornamento professionale corsi sensibilizzazione pubblicazione di questi report di studio di un andamento ecco della cyber security negli anni qui nelle note della feed vi ho riportato un po' il riassuntino di questo articolo adesso non andiamo a vedere tutti però che cosa ci dice il rapporto del 2024 un aumento del 65% degli attacchi cyber in Italia quindi un aumento del 65% è una cifra pazzesca perché vuol dire più della metà rispetto all'anno precedente l'Italia è destinataria dell'11% degli attacchi globali il report ci dice l'83% sono attacchi di cyber crime e il 36% no scusate è un incremento anche degli attacchi di activism specialmente in Italia che sono il 36% degli attacchi totali quindi beh è ovvio sono sempre più diffusi lo apprendiamo dai giornali d'altronde la maggior parte dei dati vengono veicolati online quindi l'attenzione di questi cyber criminali si sposta inevitabilmente lì qual è la differenza fra attacco di cyber crime e attacchi di attivismo allora l'attacco di cyber crime è un attacco se vogliamo che mira al guadagno economico è il classico furto di dati ti rubo i dati se non mi paghi sono in possesso delle tue informazioni faccio una sfiltrazione di dati e ti chiedo il riscatto in bitcoin in euro eccetera eccetera quindi è un attacco definiamolo molto basico molto grezzo molto proprio fine a se stesso gli attacchi di activismo sono invece attacchi politici quindi sono spinti guidati da motivazioni politiche dove gli autori di questi attacchi tentano di portare avanti una loro ideologia punire attraverso questi attacchi governi organizzazioni aziende per attirare l'attenzione su cause specifiche quindi anche questi sono aumentati rispetto allo scorso anno il che fa decisamente riflettere interessante poi questa notizia che compare sulla rivista cyber security trend anche questo sito vi consiglio di visitarlo perché è molto interessante e qui che cosa succede sul sito della polizia postale credo che ci sia poi anche in fondo il link eccolo qua ci consigliano cioè ci spiegano come riconoscere un deep fake il deep fake che cos'è nasce dall'unione di due parole deep learning che spesso è anzi spesso è associato proprio al concetto di intelligenza artificiale e fake quindi qualcosa di profondamente falso avete presente quei video di Jerry Scotti dove c'era Jerry Scotti che cantava con il corpo di Babbo Natale o i video di Jerry Scotti che pattina che canta quelli sono dei deep fake ci dice sul suo sito la polizia vediamo se riusciamo a vederlo eccolo qua attenzione perché bisogna essere in grado di riconoscerli probabilmente sarà sempre più complicato capire quando ci si trova davanti a un deep fake e quando no comunque ci dice la polizia postale fate attenzione non tanto ai dettagli del volto perché solitamente vengono super 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 perfezionati fate attenzione ecco alla postura del corpo alle luci le ombre delle immagini il movimento degli occhi il battito delle ciglia la definizione dei denti la sincronizzazione perfetta di voce i movimenti delle labbra sono aspetti più difficili da creare artificialmente provate a cercare su google un video di quelli famosi di gerry scotti fate attenzione ed effettivamente io ho fatto la prova del 9 per curiosità c'è un po' una sincronia di fondo qualcosa non torna ripeto questi suggerimenti sono validi adesso mentre stiamo parlando domani se dovessero inventare qualche cos'altro o perfezionare questi modelli di apprendimento probabilmente sarà sempre più difficile però ecco il consiglio che dà la polizia postale è quello di stare sempre allerta e fare attenzione a questi piccoli dettagli l'ultima notizia che voglio darvi riguarda lo European Data Protection Board lancia un tool veramente utile che serve per fare l'analisi privacy dei siti web è un tool che io ho scaricato sul mio pc vediamo se riesco a farvi vedere un po' la fonte eccolo qua voi praticamente torniamo un attimo indietro vi collegate qui sul sito questa è la notizia quindi andate qui sul sito dello European Data Protection Board questa è la notizia potete tranquillamente tradurla dal menu qui in alto anche in italiano perché il board come saprete è il diciamo è composto dai garanti di ogni singolo stato dell'Unione Europea che compongono questo board questa tavola rotonda e che cosa ci dice in questa notizia adesso perché non viene fuori la lingua italiana ci sarà un problema comunque probabilmente perché sono in condivisione però se provate proprio poi voi a mettere come lingua l'italiano vedrete che ve lo traduce facciamo un attimo qui la prova del 9 eccolo allora il board lancia uno strumento di controllo dei siti web che può essere utilizzato per analizzare se i siti sono conformi alla legge ovviamente intendendo la normativa sulla cookie policy la GDPR e via dicendo cliccando su questo link si apre questa pagina a seconda del vostro sistema operativo iOS Microsoft eccetera andate a scaricare il programma di riferimento si apre fate seguite tutta la procedura si aprirà un programmino dove avrete la possibilità di copiare l'indirizzo del sito che volete analizzare e vi dirà la tipologia di cookies presenti l'allocazione se è conforme o meno eccetera quindi è uno strumento carino lo hanno diciamo aggiornato perché era presente in un'altra versione ma era abbastanza complesso nell'interfaccia devo dire che lo hanno migliorato quindi ve lo segnalo provate a fare la prova del 9 con i vostri siti provate a vedere se tutto è a norma i cookies e quant'altro quindi può essere assolutamente utile può essere utile fra l'altro mi viene in mente mentre parliamo fare proprio una stampa del report di questo di questo tool conservarla nel faldone della privacy ed è sicuramente un qualcosa che va a migliorare notevolmente la nostra accountability come titolari del trattamento bene per oggi è tutto rubrica super rapida qualche informazione di servizio vi ricordo sempre che qualsiasi fonte documento proiettato infografica e quant'altro è reperibile nella sezione dedicata alla rubrica che trovate nella nel forum quindi alla community questa è la community come vedete voi scorrete in fondo dopo aver fatto l'accesso questa è la sezione privacy ecco dove c'è la locandina cliccate e dentro trovate settimanalmente le varie rubriche ovviamente non ci sono solo quelle quindi anche se avete commenti dubbi potete aprire un nuovo topic fare la domanda e il team vi risponderà prontamente per il resto io vi ricordo anche se avete piacere di rimanere aggiornati su questi temi di iscrivervi alla mia newsletter gladiatori digitali vi faccio vedere un'anteprima questa è la pagina iniziale di gladiatori digitali queste sono le notizie che sono state pubblicate le scorse settimane abbiamo parlato anche qui di cyber security data breach e quant'altro vi segnalo che a breve la newsletter verrà diciamo chiusa quindi non sarà più la fruizione non sarà più totalmente gratuita nel senso che alcune notizie verranno riservate agli abbonati premium coloro che hanno avuto più fiducia nel progetto e si sono iscritti fin dall'inizio fin da quando proprio c'erano soltanto i primi articoli quindi per una questione ecco di community la renderemo ancora più strong quindi per coloro che fanno parte un po' del gruppo ristretto dei gladiatori digitali prossimamente pubblicheremo ebook e delle risorse che possono essere d'aiuto nella comprensione di questi temi comunque per il resto vi invito a iscrivervi per rimanere aggiornati su questi temi e anche per oggi abbiamo chiuso la nostra panoramica quindi vi invito a attivare la campanellina rimanere aggiornati seguirci e utilizzare la community per le notizie varie aggiornamento domande quesiti dubbi e libere interpretazioni grazie per essere stati con me anche oggi buon weekend e ci vediamo la prossima settimana con altre notizie tema privacy e data protection grazie a tutti